Grazie a tutti. 37 anni fa, quando io avevo solo 7 mesi, perché mio papà faceva servizio qui purtroppo poco prima di morire per una malattia presa in servizio, mio padre era un finanziere, io ho una foto bellissima in braccio a mio padre qui a Taranto, che conservo con una gioia infinita, perché è un momento in cui si vede che siamo felici. E lei diceva che è bello tornarci, lo desideravo da tanto tempo, ritrovare la bellezza di questa città, avete dei posti meravigliosi, questa cattedrale è magnifica e salvarla perché questa città ha delle origini, è stato dimostrato che sono anche origini spartane, quindi che c'è una grande tradizione dietro a questa città, beh salvatele perché sono le vostre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.